Salve a tutti ragazzi, sono Marlon Minietti e allievo di Marco Pellegrino. Voglio replicare da antimaterialista. Caro antimaterialista, io penso che tu abbia frainteso quello che io volevo dire. Anzi, sicuramente frainteso. Probabilmente sono io che non mi sono spiegato bene, come avrei dovuto. Allora... Anzitutto, tu nel tuo video dici che ci ringrazio perché ti abbiamo fatto una replica, diciamo così, profonda. Ma in realtà, quello che tu hai capito, dal nostro punto di vista, non è una cosa profonda. Perché è ovvio che semanticamente, logicamente, l'essere e il nulla sono due distinti. E l'unico legame che hanno, appunto, è l'affermazione dell'essere che avviene grazie al fatto che il positivo significato del nulla è il modo, è la modalità attraverso il quale l'essere si afferma per punti infiniti all'infinito. In maniera molto fictiana, no? L'io che si oppone all'unio. E questo sforzo infinito, fictiano, porta appunto all'affermazione dell'io. Ma io... Noi non abbiamo detto questo. Non abbiamo detto questo. Attenzione. Negli scritti di Marco Pellegrino si afferma che tutto il discorso di Severino è sbagliato. Adesso io mi rendo conto che tu da buon severiniano, ripeto, i severiniani non esistono, però da buon filosofo che sei, attenzione, stare un attimo... Ti stai un attimo agitando, per virgolette, nel senso che cerchi di capire come e mai, il come e mai di questa affermazione. Tuttavia, il discorso di Severino è un discorso che fa parte della logica isolante. È un discorso che crede che il principio di identità, il principio di non contraddizione, consista nell'affermare l'assolutamente identico a se stesso e quindi l'assolutamente diverso dal suo opposto. Tuttavia, io ti ripeto, io faccio questo esempio semplice, non accademico, per farmi capire. Quando io dico Maria è bella, in questa determinazione è presente sia... è presente anche il proprio opposto, ma in maniera implicita. Cioè, Maria è bella, presenta anche il Maria non è brutta. Il Maria non è brutta. Perché questo? Perché ogni affermazione, come diceva Spinoza, ma come aveva ben capito anche Hegel, si rovescia nel proprio opposto. Perché ogni determinazione contiene la propria affermazione assoluta e la propria negazione relativa. Mi spiego meglio. Ogni affermazione, ogni determinazione, per potersi affermare, necessita necessariamente, cioè non può essere altrimenti, della propria negazione. Ma come qualcosa di interno a se stesso. Cioè, il linguaggio di Severino è un linguaggio che specifica, è un linguaggio rigorosissimo, è un linguaggio affascinante, è il più grande impianto della storia, è un linguaggio complesso, tutto quello che vuoi. Però è un linguaggio sbagliato, semplicemente perché la persuasione che c'è nella struttura originaria, qual è? È la persuasione di voler indicare attraverso il linguaggio la verità. Ma la verità non ha bisogno del positivo essere e del negativo nulla. Perché il positivo è già presente nell'affermazione l'essere è, così come nell'affermazione Maria è bella. Cioè, non c'è bisogno di dire Maria è bella, quindi non è brutta, e il Maria non è brutta è il negativo, però che in qualche modo deve essere presente relativamente come il positivo significare di Maria è bella, no? Cioè, faccio un altro esempio, se tu stai con amici e mangi la pizza, questo qua è un esempio che mi piace molto, tu non dici mi piace la pizza, quindi non mi piace la pizza. Tu dici mi piace la pizza, il fatto che dici mi piace la pizza è già originariamente, anapoliticamente, implicitamente, necessariamente, originariamente, inconsciamente, che cos'è? E' l'affermazione assoluta che a te piace la pizza, quindi non è vero che non ti piace assolutamente, ed è anche l'affermazione, quindi, relativa che l'idea che a te non piaccia la pizza è presente, in qualche modo, nell'affermazione che ti piace la pizza. Attenzione, quindi, ovvio che semanticamente, nel discorso di Severino, l'essere e nulla sono due distinti, ovvio che nel discorso di Severino, l'essere non è la coscienza, l'essere non è la fenomenologia, l'apparire, l'esistenza, la logica, la metafisica, la coscienza, l'io, ovvio che non lo è. Non a caso nel discorso di Severino si parla dell'apparire dell'apparire dell'apparire, cioè l'apparire che appare a se stesso, che è impossibile, si parla di contraddizione C, che è impossibile. Io gli sto dicendo un'altra cosa, gli sto dicendo che il discorso di Severino è un discorso straordinario perché ci dimostra la verità dell'essere, però di un essere astratto. Il discorso di Severino è un discorso importantissimo, ma è un discorso sbagliato perché è come se fosse un discorso che ponesse un essere astratto, perché non riesce a comprendere che in una determinazione è già presente il proprio opposto come negato e quindi come affermato. Questo è il discorso, Angelo. Quindi il video mi sa che l'hai fatto inteso e niente. Ti auguro una buona giornata.